Salve a tutti e benvenuti nel mio canale YouTube Oggi andremo a risolvere un problema classico che si presenta su WordPress, la famosa pagina NotFund 404. Questo è dovuto a molti fattori, tra cui quando voi cancellate delle immagini o modificate le urle della pagina in questo caso ti può arrivare un 404 perché la pagina che era stata prima destinata a tipo pipopallino.html Oggi facciamo il tutorial per quanto riguarda l'immagine Allora, l'immagine non si trova più qua Ok, allora Io so qual tipo di immagine è imputata perché basta che vedo qua come si chiama l'immagine dove si trova e in teoria praticamente quando tu rimetti l'immagine di dentro e la nomini come si chiama con la stessa url praticamente non ti dovrebbe più ridare il 404 andiamo alla all'implementazione della soluzione allora intanto andiamo sui media media eccolo qui andiamo sulla pagina sulla foto in questione basta che prendete il nome della dell'immagine in questione e praticamente la mettete qua nelle ricerche che vi appare ve la scarica ve la scaricate e la dovete rimettere dentro perché ormai praticamente questo 404 dice che non c'è più in quella cartella là ok? allora abbiamo scaricato l'immagine abbiamo appurato come si chiama eccetera eccetera adesso andiamo dentro il nostro FTP Upload 2017 abbiamo detto l'immagine ecco qua ok andiamo a vedere se effettivamente questa questa immagine non risulta allora do it work online present ok come vedete qui c'è l'immagine però sicuramente dato che WordPress la scompone in vari formati non c'è il formato che ha richiesto che ha approvato questo questo not fund allora ci andiamo ad analizzare 1024 x 576 allora andiamo a vedere infatti non c'è questo formato allora dobbiamo dare le effettive immagini che lui richiede cioè praticamente 1024 x 576 in questo caso ci prendiamo l'immagine andiamo a controllare quanto è grande ok è quella che ci serve allora adesso lo andiamo a rimettere dentro la cartella allora intanto lo andiamo a caricare dentro l'FTP allora vediamo come si chiama ok andiamo nella cartella in questione e lo andiamo a caricare ora fatto questo facciamo un aggiornamento anche se non serve però facciamo aggiorna andiamo sul not fund carichiamo e per magia ci appare nuovamente l'immagine e non restituisce più il not fund ok spero di essere stato utile e vi mando al prossimo tutorial se volete fare delle domande mettete il commento sotto e ci vediamo al prossimo tutorial ciao ciao